Maretta in casa Lega Nord. Abbiamo chiesto da Alessandro Antonacci, segretario fanese del Carroccio, chi inviterebbe a cena tra Umberto Bossi e Roberto Maroni. Dovendo scegliere necessariamente uno solo, sceglierei Umberto Bossi perché sono il segretario comunale di Fano e dipendo direttamente dal segretario federale. Penso che comunque sia questa diatriba sia stata abbastanza malinterpretata in questo senso. La Lega è forse l'unico partito veramente democratico. Umberto Bossi è segretario federale perché è stato votato, chiunque può presentarsi al congresso e le varie linee politiche vengono discusse in congresso. Cosa gli offrirebbe? Dovendo invitarli a cena a Fano, inviterei entrambi a mangiare il brodetto perché di fronte al nostro brodetto sicuramente tutti si metterebbero d'accordo. Grazie per la visione!